Salve fanciulle, salve fanciulli! E sì, da un po' abbiamo questa location diversa, però va bene ugualmente. L'importante è dedicare del tempo alle vostre domande e cercare di tirar fuori le risposte legate un po' ai quesiti che ponete e quindi anche a ciò che effettivamente vi deve raggiungere. Io intanto, facendo un gran casino, ho già dato una gomitata al cellulare che fa le riprese. Allora, vi ricordo sempre che le carte le metto al dritto, ma le interpreto per come si danno, che parliamo come fosse un uomo verso una donna, parlo così solo per convenzione, ma dovete cercare di comprendere voi qual è il vostro ruolo all'interno della storia, che un video a validità dal momento stesso in cui lo sentite non è vincolato al giorno di pubblicazione. Però, se voi volete leggere in quell'evento una sincronicità, allora, oltre all'iscrizione al canale, cliccate anche la campanella. Io vi ringrazio per i commenti e vi ricordo sempre che l'unico modo per entrare in contatto con me è proprio quello di scrivere all'email tarocchiviaggioalchemico.com Altre modalità, beh, non sono reali e se qualcuno vi contatta a nome mio sono truffe. E oramai è diventata un po' una sorta di battuta, di gioco, non accettate consulti dagli sconosciuti. Ora, al di là di questo, cosa andiamo ad analizzare? Tu senti un legame fortissimo per una donna o per un uomo, con cui c'è una sorta di storia più o meno intensa. Poi, ciascuno di voi conosce il proprio punto di partenza. Ora, questa persona non si impegna e tu senti che il sentimento c'è, è reale, ma che questa persona ha un blocco e vuoi sapere se riuscirà a superarlo. O se ti sta ingannando, ti sta sbagliando, forse è come dice lui, come dice lei. Cioè, si approfitta solo di te, in realtà ancora legato alle ex. Non è convinto, non è innamorato, non è una storia importante. Cioè, andiamo a vedere un po' tutto, partendo dal a che cosa siete destinati assieme. E proviamo anche a mettere in dubbio per l'appunto tutte quelle affermazioni un po' così disfattiste di lui che tende a distruggere e non a costruire. Magari è la verità, e quindi è semplicemente una persona che si approfitta, però è un onesto approfittatore. Quindi te lo dice e te lo ribadisce. Vediamo anche il ruolo di queste persone del passato. Che cosa puoi fare tu? Che cosa ti puoi aspettare? Anche per cercare di non soffrire, o almeno cercare di non soffrire più di tanto. Quindi, dopo aver quasi fatto cadere il cellulare prima, e riprendendo con una inquadratura decente, andiamo a vedere, iniziando dalla dinamica karmica, ma qui vola tutto. Questa è l'unica carta che si è voltata nel mentre, ed è già la seconda volta che rischio di far cadere tutto, elettricità nell'aria. Andiamo a vedere a che cosa siete destinati. Ora però, qualsiasi, ecco di nuovo, piccolo problema, e devo riuscire a capire perché non riesco a rimanere ferma, buona e tranquilla, che cosa sta accadendo in questo momento, ma il caso non esiste. Questa risposta che sta per venire fuori è evidentemente qualcosa che lui non vuole e tu scopra. Quindi cerchiamo di capire che cos'è. Abbiamo queste energie che entrano in conflitto con la nostra volontà di fare un po' di chiarezza in questa situazione. Allora, partiamo dal compromesso. Vogliamo capire il destino tra di voi, le carte appunto le mettiamo al dritto, vediamo dove ci portano queste prime risposte, e poi formuliamo anche le domande successive. Il compromesso rispetto a che cosa? Allora, questa è la carta in più del mazzo, che non fa parte dei tarocchi di Osho, ma che ho trovato nel mio, dove l'immagine degli amanti incontra la parola della carta dello stress, non sostituendo nessuna delle due, perché poi le due carte effettivamente ci sono. La cosa bella di queste due carte, sia del compromesso che dello stress, è che ci sono in entrambe due persone molto simili, che si specchiano l'uno nell'altra, e però questa cosa non viene riconosciuta, o quantomeno sembra proprio che uno dei due, in qualche modo, non si voglia allineare a una sorta di necessità, che viene percepita come minaccia, e risveglia anteriormente una condizione condizione non di serenità o di conferma, io trovo e provo serenità nel capire che tu sei me, che io sono te, che siamo molto simili, che siamo connessi, ci siamo trovati, e se siamo l'uno dinanzi all'altra, diciamo il peggio è passato, ora possiamo decidere di andare verso una direzione comune, e scegliamo il modo. Quindi possiamo trovare un accordo, che però viene vissuto come compromesso, il compromesso è sempre una sorta di forzatura, perché vuol dire che io rinuncio a qualcosa, e tu rinuncio a qualcosa, quindi un pochettino ci stiamo limitando, perché però? Eccola qua la carta dello stress, allora è proprio questo il punto. Quindi fingere di stare bene, sicuramente lui sta ingannandoti, ma in che senso? Perché ti voglia ingannare, o ti voglia imbrogliare, far soffrire, prendere in giro, non è quello. Le affermazioni che lui pronuncia, e che ribadisce, non sono la realtà. Ovviamente adesso andiamo a interrogare le carte, per capire cosa c'è dietro l'apparenza, lì dove questo clown porta una maschera. La carta parla di divertimento, ma guardando la posizione di questo personaggio, come di quest'altro, noi comprendiamo, due carte con la parola stress, che l'elemento che viene ribadito, è proprio questa sorta di forzatura profonda, nel volerti mostrare, dimostrare che non siamo quello che siamo. È fantastica questa cosa. Quindi, uno, tu non ti stai ingannando. Poi vediamo, a livello karmico, dove dovete poter arrivare. Quindi tu non ti inganni, nel sentire una connessione fortissima, verso di lui. E nel riconoscere, che in questa connessione fortissima, non sei in ballo solo tu, ma anche lui. Ed è lui quello che si sta opponendo, al fatto di aprire gli occhi, qui li mantiene chiusi, forzandosi tantissimo, con sforzo, e anche qui gli occhi sono chiusi. Quindi io non voglio vedere un'evidenza, perché non la voglio vedere, mi genera malessere e stress. Mi genera, interiormente, una condizione di non equilibrio, e non serenità. Però voglio farti credere, no, metto a nudo, mi metto a nudo, mostro, lascio, trapelare che cosa, che invece io sto benissimo, che quello che faccio nella mia vita mi sta bene, che non ho bisogno di cambiare nulla, che non voglio nulla da te, non voglio nulla di più da te. E vediamo perché però a questo punto, è perché dovrei lasciare andare il passato e cambiare radicalmente. Ora, sembrerebbe che anche il discorso delle ex non è tanto un qualcosa che ha a che fare con il reale legame con una compagna del passato. però è come se uno volesse in qualche modo rimanere legato al passato e quindi non dover assecondare i cambiamenti del presente che spingono verso il futuro con la scusa che c'è questo qualcosa del passato ancora in sospeso. Cioè, fino a quando esiste lo spauracchio della ex, in realtà io ho una giustificazione, un alibi. Quando poi magari la ex non sta minimamente pensando a lui, e lui non ha nulla a che vedere con la ex. cioè sono davvero dei discorsi che lui racconta prima a se stesso e che usa la conflittualità e, diciamo, la non serenità, l'incertezza, l'indecisione, la lotta, fa parte tutto di un vissuto interiore. Lui che non si lascia andare, lui che non si espone, lui che non si mette in gioco, lui che si trattiene, lui che si racconta un sacco di balle per giustificarsi, lui che si crea alibi. E perché però questo uomo non vuole lasciarsi andare, soprattutto nei tuoi confronti? E allora, ora cerchiamo di fare la domanda cambiando anche mazzo, indagando un po' sulla natura del suo blocco, però sicuramente è un blocco. Perché, se l'armonia, la risoluzione del problema, il riconoscersi come anime affini, l'affiancarsi e l'andare nella stessa direzione, il trovare serenità tra pensiero e sentimento, è un qualcosa che mi proietta verso il futuro e mi dà proprio il senso dello scorrere del movimento, il blocco è proprio un resistere a questa situazione qui, che nella carta della morte potrebbe avere a che fare con la metamorfosi e il cambiamento futuro. Per qualche motivo, io non mi voglio avvicinare al mio futuro, non voglio andare incontro al futuro. e poiché andare incontro al futuro vuol dire andare incontro adesso con te al fianco, se io accetto te nella mia vita e mi metto in gioco, automaticamente, non fosse che siamo identici, speculari, proprio l'uno dinanzi l'altra, se tu avanti vai, a me tocca fare proprio quello che non voglio fare. Quindi tu diventi la prima nemica, non perché tu sei davvero una nemica per me, o io voglio lottare con te. Non è quello. Però a questo punto come faccio? Se ti voglio nella mia vita, ma non voglio cambiare la mia vita, ma se mi allineo a te devo necessariamente andare nella direzione che prendi pure tu, vivo questa situazione in modo imperfetto, incompleto. Cioè non la faccio evolvere. Cerco di non farla evolvere. Ma se non esistono ostacoli davanti che mi possono bloccare, cioè se non c'è un muro davanti che si erge a bloccare il nostro passo, quale giustificazione alibi posso mettere in campo il passato. Quindi se il problema non è nel futuro, io devo mettere in campo la giustificazione del passato. E allora che cosa mi può trattenere del passato? Eventualmente la ex. Perché a parte il fatto che è un terzo incomodo che non viene messo in campo, cioè non ti ci devi relazionare tu, io ti posso raccontare tutto al contrario di tutto relativamente alla mia ex. Però ovviamente sono delle giustificazioni. Quindi, connessione profonda c'è, questa persona potrebbe essere benissimo la tua anima gemella. Sicuramente abbiamo la conferma che non sei assolutamente matta, quello che senti e percepisci ha un sentimento e un dato di fatto, un sentimento reale. Non finisce qui e anche se lui si sta trattenendo, prima o poi qualcosa accadrà per cui la situazione dovrà necessariamente evolvere. Qual è il fine in questa incarnazione? Ciò che potete davvero raggiungere in questa incarnazione? vediamo. Questo cambiamento improvviso che fa cadere carta dello stress è dal suo piedistallo una persona che deve lasciare andare le maschere e nel cambiare pelle cambiare, mutare, fare la muta, nel cambiare pelle raggiungere innanzitutto per se stesso, se stessa come persona con sapevolezza profonda di quello che nell'oggi non vuole vedere. Quindi potrebbe accadere qualsiasi cosa nella sua vita, anche a livello privato, non necessariamente un qualcosa che è legato a te, anche una delusione, una sofferenza, un lutto, un dolore che all'improvviso gli fa cambiare radicalmente natura perché la metamorfosi poi alla fine è anche un cambio radicale. negli abitudini e negli abiti cambiando pelle cambio abito e quindi nelle apparenze. Quello che io sono e che sto trattenendo in quella lotta interiore portando addirittura non solo la maschera ma l'armatura. L'armatura è come un contenitore e se i sentimenti li vogliamo vedere come un liquido che prende la forma del contenitore io non sto lasciando questo liquido libero di scorrere come nella carta dell'armonia perché andrebbe ad armonizzarsi con il tutto ma lo contengo e lo limito in un contenitore la cui forma la stabilisco io e mi isolo dall'esterno perché cambiare e mutare vuol dire andare incontro anche alle proprie prove e le proprie prove ci costringono ad affrontare tutto ciò che ci trattiene e anche ad avere il coraggio di superare quegli esami karmici e in questo caso spezzare la catena vuol dire spezzare la concatenazione delle cause e degli effetti divenire una persona matura imperatore uomo responsabile delle azioni del passato e coraggioso pioniere verso il futuro non è cosa da tutti quindi lui si sente ancora schiavo condizionato e non vuole intraprendere questa salita che nella metafora vuol dire affrontare gli ostacoli e in questo caso i suoi personalissimi ostacoli visto che la montagna è l'ostacolo per eccellenza eppure potrebbe farcela quindi potrebbe superare i suoi limiti in questa stessa incarnazione e se lui ci riuscisse tra di voi che cosa potrebbe accadere allora innanzitutto se lui si mettesse in gioco scoprirebbe di avere le risorse necessarie per superare in un attimo quegli ostacoli che sembrano no irremovibili anche perché la fede la fiducia sposta le montagne se ne possedessimo in maniera sincera anche solo un granello piccolo come un chicco di senape e in questo caso potrebbe riportare una grande vittoria e sicuramente tirarsi via portarsi via da quella solitudine che in fondo interiormente sta vivendo tuttora sì però è una vera e propria morte rinascita quindi non ha che fare con te o meglio non è né colpa tua e né sarà per causa tua che lui cambierà visto che non si sta mettendo in gioco per questo motivo ma quando accadrà e potrebbe accadere proprio come conseguenza di un qualche vissuto molto duro e impattante nella sua vita vissuto personale quando finalmente questa trasformazione si sarà data allora lui si muoverà anche nei tuoi confronti ad oggi le carte mostrano un legame reale e potente tu che gli fai da specchio lui che non vuole vedere proprio il suo viso da qui la maschera dei giochi politici da qui la maschera della carta del divertimento da qui in fondo la maschera che lui indossa portando un'armatura solo che se tu gli fai da specchio gli restituisci il volto che lui teme e non comprendendo che si sta proiettando su di te il volto che teme non lo riconosce come il proprio ma come il tuo quindi tu diventi il maggior nemico però allo stesso tempo la connessione è reale e quindi lui non è che ti volta le spalle e se ne va le ex sono solo un alibi una giustificazione non è una persona felice anzi è conflittuale e sofferente la vita più di una volta ha cercato di metterlo nella condizione di cogliere una piccola apertura e cambiare in maniera mi vorrebbe da dire morbida diciamo un po' assistita lentamente con meno peso ecco come quando devi affrontare un esame a scuola così funziona con gli esami carmici se tu hai dieci mesi per prepararti leggi due pagine al giorno arriva il giorno dell'esame che sai tutto se però poi non lo fai ti ritrovi a dover leggere mille pagine in due giorni quindi il peso no che hai è maggiore e non è detto che tu possa farcela però d'altronde lì è il libero arbitrio che è stato esercitato anche nel decidere modalità e tempistiche ora vediamo qual è il vero legame con questa eventuale queste eventuali ex vediamo se le carte confermano la dinamica di un alibi cioè proprio perché io non ho ostacoli dinanzi a me volendo fuggire il futuro non ho il muro devo inventarmi una catena che mi lega al passato d'altronde l'imperatore di prima la catena la spezzava guardando proprio dietro di sé verso quel passato quindi è un discorso anche questo che regge fino a un certo punto però lui può sempre ripeterlo e attaccarsi perché veramente attaccarsi a questa giustificazione o scusa quindi omaggio e donna bionda vittoria di che cosa e di chi amante denaro che ha a che fare con l'omaggio successo baldoria gelosia atteggiamento infantile situazione che non evolve allora il punto è che questo uomo con la sua ex o con le sue ex ad oggi non ha un rapporto sereno e non è neanche detto che lui possa realmente tornare sui suoi passi e che loro vogliono che lei voglia avere a che fare con lui perché sinceramente le carte mostrano una persona che non si è mai relazionata nel passato esclusivamente con una donna o una donna per volta ma ha avuto più di una situazione e tra l'altro è stato anche scoperto e quindi smascherato la maschera lui se ne è messa e tolta più volte la maggior parte delle volte sono state le donne che ha incontrato a togliergliela alcune perché hanno proprio scoperto i suoi tradimenti lui che magari per molto tempo ha avuto anche l'atteggiamento un po' spavaldo nella persona convinta di poter sempre scampare il pericolo e non è stato così soprattutto con una di queste ex deve esserci stato un litigio molto forte e quindi lei potrebbe aver scoperto la presenza dell'altra poi magari si possono ancora sentire perché lui ricompare nella loro vita ma io non vedo delle donne intenzionate a prenderlo in considerazione di nuovo come amante o come compagno visto che l'opinione migliore che possono avere di lui al di là del traditore vista la carta della gelosia è che si tratta di una persona molto infantile speranza la speranza di chi fedeltà lo hanno atteso anche tanto allora e ce n'è una che lo ama particolarmente e questa potresti benissimo essere tu è una persona sì che è pronta ad attenderlo allora pensatore solitudine non perché si tratta di carte che presentano un personaggio maschile devono necessariamente parlarci di un uomo possono essere degli aspetti caratteriali e appunto delle caratteristiche di questa donna innamorata che soffre con un cuore trafitto tra le mani e che è la donna l'ultima in ordine di tempo perché la carta del nostro soldato che va in conquista ci fa anche comprendere un pochettino che lui è così voglio dire che si tratti di un don Giovanni però un seduttore dove come militare conquista persone in questo caso non terre e territori quindi in ordine di tempo io ad oggi ho una donna innamorata pronta ad attendermi anche quando mi nego la fedeltà l'abito del militare con il militare che va in conquista qui resta a casa solo l'abito e lui non c'è ora una donna che aspetta e tiene il posto a qualcuno che è assente che potrebbe averla sedotta come ha già sedotto nel passato altre donne lui potrebbe non impegnarsi per mantenere nella sua mente l'idea di essere libero e poter fare quello che vuole quando vuole da un lato si sente anche diciamo in pace con se stesso perché il cambiamento che potrebbe aver apportato nella sua esistenza rispetto ad anni fa è che se nel passato i tradimenti li ha nascosti stando dentro relazioni ufficiali nelle quali magari aveva anche giurato amore e poi alle spalle si comportava in maniera scorretta adesso lui dice tutto il contrario non giura amore proprio per nulla anzi forse dice anche cose brutte che poi danno un'immagine brutta di sé però mette le mani avanti questo non vuol dire necessariamente che lui ad oggi abbia adocchiato una persona nuova ma nella sua mente è come se volesse lasciarsi aperta questa possibilità e ti posso dire che più che le donne del passato che lo possono trattenere visto che lui le usa come alibi ma non lo vogliono assolutamente te lo lasciano volentieri tutt'al più è l'idea di poter trovare altre donne nel futuro che lo spinge a continuare ad avere questo tipo di atteggiamento però è piuttosto inconsapevole incosciente e infantile circa quello che provi tu non si mette nei tuoi panni quindi indirettamente diventa un po' cinico e anche crudele cioè anche se non è vero quello che ti dice lui quando te lo dice te lo vuole dire veramente cioè non è vero quello che ti dico e lo uso come alibi ma il fatto di volertelo dire con l'intenzione di farti credere che sia vero e quindi con delle conseguenze che poi sono reali perché se ti faccio soffrire quella sofferenza è vera anche se le chiacchiere sono false quella volontà è reale e da quel punto di vista è un po' cattivo in questo momento è un suo non essere risolto verso se stesso si specchia nel volto che il tuo non riconosce come il proprio quella cattiveria che dovrebbe rivolgere a sé in realtà la rivolge a te ciò non toglie che la vostra connessione sia comunque vera ora ma che tipo di comportamento a questo punto ti consigliano le carte perché qui ci vuole tanta pazienza io non vedo sbloccarsi la situazione né evolvere più di tanto quindi non è un problema la questione della ex non è un problema la questione delle eventuali ex lui non vuole cambiare atteggiamento nei tuoi confronti e ribadisco anche se dietro i sentimenti sono reali però diciamo l'atteggiamento infantile è altrettanto reale così come il blocco che non puoi sbloccare tu perché a lui tra l'altro sta bene così e quindi ci vuole santa pazienza anche se le carte dicono che si potrebbe vivere serenamente già in questa incarnazione però se lui non vuole non lo puoi costringere andiamo a vedere all'atto pratico che cosa ti conviene fare in questo momento vedi la situazione è ferma e tu puoi essere anche contrariata ma lui potrebbe dirti nessuno ti sta chiedendo niente sei tu che vuoi stare al mio fianco io non ti ho mai promesso nulla quindi tu sai che qualsiasi scelta stai facendo in questo momento ti vincola ad un prezzo ogni scelta ha un costo e beh e quel prezzo ovviamente non lo pagherà nessuno per te perché le scelte sono le tue tu però gli vuoi dare un'opportunità gli vuoi dare credito anche se lui in realtà questo tuo dargli un'opportunità è un'occasione che getta il vento e ha già gettato il vento tante volte nonostante non lo vuoi lasciare andare allora in questo momento puoi solo cercare di vivere la situazione nel migliore dei modi prendendo i momenti buoni con la consapevolezza che lui effettivamente non si vuole aprire e sa essere crudele sa ferire con le parole e in questo caso il personaggio è incappucciato con il pugnale tra le mani le braccia chiuse sul petto quindi preparati solo a questo lui questo tipo di atteggiamento a breve non lo cambia e solo la tua santa pazienza il tuo amore incondizionato possono far sì che nonostante tutto si continui ad andare avanti dirti che in assoluto non c'è la possibilità di essere felici non è vero la possibilità c'è ma risulterebbe ingannevole anche l'affermazione ci riuscirete a breve perché le carte non danno questa certezza perché lui non collabora non vuole collaborare perché perché a lui la situazione sta bene così perché perché tutto è più egoista aspetto di scontro un abbraccio grazie a tutti